Parliamo di cucina, di una delle nostre produzioni più gradite, per parlare di lezioni da chef, cucina e territorio, nuovo programma curato da Jennifer Di Vincenzo che accende i riflettori sull'Abruzzo e sulle sue eccellenze più autentiche, è ancora poco conosciuto, una trasmissione di approfondimento in cui ci si addentrerà nel vasto mondo della tecnica in cucina, con la collaborazione questa volta delle grandi firme della ristorazione abruzzese che promuovono da sempre la cultura dei prodotti nel territorio. In ogni puntata, alla fine di ogni lezione di cucina, si conosceranno anche un produttore e la sua azienda, si spazia dall'olio al vino, passando per i prodotti caseari, il miele, i salumi, il pomodoro, le carni, lo zafferano dell'aquiladò, il peperone di altino, per citarne solo alcuni. Il primo appuntamento con lezioni da chef, cucina e territorio, questa sera alle 20.30 su Rete8.